Si riparte il 1 settembre da Villafreni e si tratterà di fare un evento molto importante che durerà due serate, il 1 settembre e il 2 settembre. Come sempre è tanta musica, come sempre i protagonisti, le glorie del beat, perché sappiamo che Modena è la capitale del beat, quindi ci saranno i nostri senatori, come li chiamo io, del beat, ma soprattutto la componente giovane molto importante quest'anno. Ci saranno le band della School of Rock degli Avanzi di Ballera Modenesi, quindi giovanissimi, e soprattutto avremo come headliners due band modenesi che si stanno facendo conoscere veramente in tutta Italia, le Pandorea la prima sera e i Malvax la seconda. I fondi, ciò che viene raccolto, viene devoluto in beneficenza? Sì, la scelta della location e la scelta di questa collaborazione con ASEOP, ci tenevo a ricordarlo che Avanzi di Ballera Modenesi da anni collabora ai progetti di ASEOP, di Casa di Fausta, e a Villa Freni sorgerà appunto la seconda Casa di Fausta. Quindi Avanzi di Ballera Modenesi, sia per quanto riguarda me, ma anche, ricordiamolo, il nostro super responsabile di eventi, Marco Baccarini, lo zio Bac, che si esibirà al Modena Beat. Ci teniamo veramente tanto a questa partnership che abbiamo con ASEOP, perché Casa di Fausta è veramente un progetto che riguarda tutti, perché da tutta Italia vengono famiglie che hanno i bambini al policlinico e vengono ad alloggiare in Casa di Fausta.